siamo felici siamo felici di averli battuti ma io non sono felice perché volevo aprire dilaniare con i gol numericamente gliene volevo fare quattro infatti la possibilità c'è stata solo che non la mettiamo dentro quindi ancora non siamo perfetti però io esigo che si parli di questo rigore qua io esigo che si parli di questo rigore qua perché questo rigore è osceno non tocca la palla aggancia la gamba questo rigore è osceno hanno rotto i coglioni all'inter settimane dopo settimana dopo settimana dopo settimana dopo settimana dopo settimana dopo settimana io esigo che si parli di questo questo mancato rigore qua lo esigo in tutte quelle tv cialtrone d'italia sui giornali questo è rigore netto questo è rigore netto questo rigore netto var spento sarebbe stato il primo rigore il primo rigore contro questi borseggiatori sarebbe stato il primo rigore netto contro questi cleptomani sarebbe stato il primo rigore netto il primo rigore contro che ancora non vedo ancora non vedo dopo 20 giornate ancora non vedo io esigo la guerra come hanno rotto i coglioni all'inter questo è rigore netto questo rigore netto non prende la palla ma niente ma maresca in quella foga vai 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 andiamo andiamo a giocare è come dico io è come dico io è inutile che stiamo qui a alle condismi è capito è voluto un rigore contro ancora non esiste contro questi fabbri falegnami chiamateli come volete non esiste questo è rigore netto rigore netto io esigo io esigo esigo che ne debbano parlare tutti come hanno rotto i coglioni all'inter basta locatelli 40 milioni quanto è che l'hai pagato locatelli blaovic 80 quello 70 quello 60 quello 90 il migliore dell'inter il migliore dell'inter si vede sui si vede il campione si vede il campione questo poteva essere un campione del nostro triplete io me lo immagino al triplete questo qua pavar piedi da campione piedi da campione un mkhitaryan che nessuno lo voleva un chalanoglu preso per il culo deriso per anni allora stelle un turam che nessuno sapeva chi era pensa te chi cazzo è questo qui che ancora non è il turam no aspetta un attimo un lautaro che l'abbiamo cresciuto 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 comunque devo dire una cosa Simone sta facendo meglio di Mancini molto meglio l'inter di Simone inizia a giocare meglio di quella di Mancini è il gruppo è la mentalità se tu entri in questa famiglia ci sono certe condizioni non ci stai fuori dai coglioni hai capito hai capito è così solo che a me fa male a me fa male non sono felice assolutamente è stata una partitella di merda sono tre punti per me non li calcolo proprio anzi non mi va nemmeno di prenderli per il culo a me ha questi qua ma io voglio quel rigore io voglio quel calcio di rigore voglio quel calcio di rigore e voglio che se ne parli in tutte le tv in tutti i salotti perché è vergognoso curva nord applauso una cosa fantastica perché quando c'è da dire bravi dobbiamo dire bravi a tutti quando c'è da dire pirla dobbiamo dire pirla hai capito Stella quindi quell'uno a zero come autogol mi sta troppo stretto sì sì ma sono felice godo ma mi sta stretto l'inter deve imparare manca quello step finale manca quello step finale è quello step che ti porta a vincere una Champions quello step finale la solidità devi fare gol quello è lo step finale basta quell'incertezza quella cosa non va Barella quel tiro ieri ti sei girato ma non eri convinto capito e poi mica chi è che dicevano che Cesni era scarso un portiere scarso ho sentito pure un gobo che diceva ma ha te il visto un portiere polacco ma quando mai Cesni Cesni è un portierone Cesni dovete fargli la statua a Torino in piazza Cesni cosa ha parato questo guagliere con i piedi che cazzo è hai capito hai speso oltre 250 milioni nel giro di due anni hai capito basta ancora lo step per vincere la Champions fino a ieri non lo vedo le devi mettere dentro Stella tutte le partite devono finire 3 o 4 a 0 basta basta è così è così è così Stella quella tremarella piccola ho visto un po' di tremarella all'ultimo passaggio no hai capito questo è questo scandalo 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 rigore netto scandalo 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 adesso iniziamo a prenderli per il culo vai vai vai